Allora ci troviamo a Piazzetta dell'Olmo che pensate tantissimi campobassari neppure conoscono. L'Olmo in questione è qui alle nostre spalle o perlomeno di sguincio e questo bellissimo signore è Carmine del Busso il quale tra gli altri si sta occupando dell'organizzazione di una serata che andrà in scena domani sera se non sbaglio in sintonia con la folk, con le tradizioni e con un addentellato alla cultura se non sbaglio. Sì, questa è una serata che organizziamo noi della Polifonica Monforte in collaborazione con l'assessore della cultura del comune di Campobasso quindi con l'assessore De Capua. Era una manifestazione che dovevamo fare il 24 di agosto per i noti fatti luttuosi del terremoto giustamente è stata rimandata e quindi adesso eccoci qui a presentarla per domani sera. Il cartellone prevede oltre alla Polifonica Monforte anche un'ospitata piuttosto importante sul piano folk che viene dal Beneventano. Sì, noi della Polifonica saremo solo a fare insomma qualche canzone la serata è improntata sul folctore diciamo Sannita il gruppo Sannio Antico appunto di Casalduni sfilerà per le vie di Campobasso e poi si fermerà appunto qui a Piazzetta dell'Olmo e a Santa Cristina. Allora, se la gente conosce poco Piazza dell'Olmo immaginate Piazzetta Santa Cristina si va su via Ziccardi, si fanno circa 150 metri trovate uno slargo a sinistra con un fontanino e lì vi potete recare per vivere insieme. E allora, a che ora è questa storia Carmen? Cominciamo alle 20.30 qui da Piazza dell'Olmo e poi appunto la manifestazione itinerante e volevo ricordare appunto gli interventi di Arnaldo Brunale di Gianni Spallone e di Pina Di Nardo che faranno da corollario a questa manifestazione. E però, facciandoci alle finestre o mi sbaglio? Balconi, finestre, sì, insomma dall'alto.